Buongiorno e bentrovati con questa edizione di mattino 6, mercoledì 21 dicembre 2016, ci avviciniamo al Natale anche se questo avvicinamento è stato funestato dalle notizie delle ultime ore, in particolare la strage dei mercatini a Berlino con una ragazza della nostra regione, la sulmonese di 31 anni Fabrizia Di Lorenzo al momento dispersa, ma ci sono ormai speranze ridotte al lumicino di poterla trovare viva. Chiaramente questo episodio trova una vasta eco sui quotidiani locali, la storia di Fabrizia Di Lorenzo e lo strazio dei genitori, più in generale sui quotidiani nazionali si parla tanto di questa strage e anche del fatto che i killer siano in fuga. Vedremo tutto questo nel corso della nostra rassegna stampa, vedremo anche alcuni servizi del nostro notiziario di ieri. Iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani locali, centro messaggero e la città, poi la rassegna nazionale. Ecco qui il centro dolore per la nostra Fabrizia, generazione Erasmus da Sulmona alla Germania fino alla strage di Berlino. In città, tragedia nella tragedia, in città anche un impiegato suicida, era coinvolto nel caso dei furbetti del cartellino, il comune Peligno sotto shock. Poi ancora, tornando al caso della sfortunata Fabrizia, il papà del dramma, ecco come abbiamo capito che era finita. Quindi in basso, l'avvocatessa Di Chieti ero a pochi metri dallo schianto, il tir sbucato dal nulla. Ci sono alcune testimonianze raccolte proprio dal quotidiano Il Centro, poi le vedremo. in basso, per la cronaca Pescara, il direttore del Todis. Così ho affrontato quel bandito. A Montesivano, otto anni a Mirabiglio, il re dei Knight a Luci Rosse. E poi di spalla, oltre la politica, Renzi da ex, pardon, vita da ex, Renzi immortalato al market mentre fa la spesa con Agnese. Poi ancora, in basso, gli angoli più belli di Rancitelli. Mostra fotografica, laboratori e attività al Parco dell'Infanzia. Per lo sport, il calciomercato, il Pescara vuole chiudere la trattativa per Budimir. E ora il messaggero Abruzzo. A Berlino per lavoro, sparita Fabrizia. Da Sulmona all'impiego in una multinazionale tedesca di Lorenzo, 31 anni, potrebbe essere tra le vittime dei terroristi. Il telefonino sul posto dell'attentato, un corpo compatibile con la descrizione. Si attende il DNA. Il padre dice, non mi illuto. Sotto la testata, chieti la banda dell'Ariete, assalta l'IKEA, vetrata sfondata, ma niente Bottino. E poi, sempre a Pescara, per la cronaca, l'ex conosciuto in chat la tormenta. Lei lo denuncia e lo fa arrestare. Poi per lo sport, Pescara dall'Atalanta può arrivare Carmona e Biancazzoli in cerca di rinforzi per gennaio, mentre la squadra prepara la sfida fondamentale in programma domani a Palermo. E poi ancora, di spalla, un calendario per il Brigante Buono. Era zio di John Fante. E poi, in taglio medio, suicida, impiegato sotto accusa per assenteismo. Sulmona, il dipendente comunale, avrebbe coperto un superiore. Troppa vergogna. E poi, in basso, Regione, si al piano rifiuti, senza il Camino, ovvero l'inceneritore. La prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Lo scandalo acqua finisce in procura. L'associazione Robin Hood presenta un esposto sulla gestione dell'incidente del Gran Sasso. Poi, come leggiamo sotto la testata, passa la linea Brucchi-Gattin, consiglio a Teramo, bocciata la funivia del Rettore. Poi, terremoto del 2009, colleda da 13 milioni per la ricostruzione. L'editoriale del direttore, Alessandro Misson, la guerra dichiarata. E poi, la fotonotizia dedicata alla sfortunata 31enne Fabrizia Di Lorenzo. Tra i dispersi, poche speranze, titola la città. I richiami di spalla del quotidiano della provincia di Teramo. Nuovi indirizzi, tutti a bocca asciutta, tranne l'agrario Rozzi. E poi, Alba Adriatica, Viviani rischia di spaccare il PD di Alba. E poi, sempre in Val Vibrata, colonnella e il sindaco multato dalla Corte dei Conti. In basso inaugurato il Museo del Gatto a Teramo. Ospiterà i 600 pezzi donati all'IZS. E poi, sempre a Teramo, noi lucidi, il sindaco si veste da babbonatare per gli alunni terremotati. Questo per conto riguarda le prime pagine dei quotidiani locali. Ora andiamo a vedere le prime pagine delle testate nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Ecco qui, in fuga, il terrorista del camion, scarcerato il pakisistano, sospettato il dramma dell'italiana dispersa. Il padre, non mi illudo, il viminale vieta le manifestazioni senza protezioni sulle strade. In forse il concerto di Capodanno a Roma. E poi ancora l'editoriale di Aldo Cazzullo. Il dolore, la libertà, noi europei e le paure da vincere. E poi in basso l'orgoglio rischioso di Angela nell'articolo di Danilo Taino. Poi ancora Fabrizia era felice, qui è bello, con la foto della sfortunata giovane sulmonese. In taglio medio, previsioni con errori, bocciato il bilancio di raggi, stop dai revisori, marra incastrato dal costruttore. Poi in basso show da Trump, il web ferma Bocelli, ira dei fan sulla rete. Il tenore decide di non cantare per il neopresidente, per ora. Andiamo avanti con la prima pagina della Repubblica. Berlino, la lunga fuga del killer. Lacrime italiane per Fabrizia. Rilasciato il profugo preso dopo la strage. I morti saliti a 12. L'Isis rivendica l'attacco. E poi ancora di spalla, il caso Roma, schiaffo a raggi, no al bilancio del Campidoglio. Bocciatura mai accaduta, marra un'altra casa a Malta. E poi nell'articolo qui che leggiamo, il naufragio a 5 stelle, sempre a riferimento alle vicende romane. E poi ancora in basso, nei disegni di Luiz, l'inverno della felicità. E poi il paese libero e testardo del partigiano Bocca a 5 anni dalla sua scomparsa. Prima pagina del messaggero che dedica l'apertura alle vicende del Campidoglio. Raggi, conti bocciati e paralisi. Lo stop dei revisori del Campidoglio sul bilancio. Debiti non coperti non era mai successo. Sciocchi in giunta. Ok, forse a febbraio bloccate tutte le spese per la città. Rischio commissario. E poi sotto la testata, l'anniversario retrospettiva su Dino Risi, un sorriso lungo un secolo per l'ex regista. Il campionato, la Lazio contro l'Inter, obiettivo secondo posto questa sera la partita a San Siro. E poi la fotonotizia, il sogno spezzato. Fabrizia italiana dispersa nella strage di Berlino, flop tedesco, killer in fuga, caccia in tutta Europa. Abruzzese, 31 anni, viveva in Germania da 6, le vittime sono 12 e l'Isis rivendica. Poi l'editoriale di Carlo Nordio, garantisti e politica, conta di più un errore che un avviso di garanzia. Sempre riferimento alle vicende del Comune di Roma. Poi in basso, francesi al 26%, mediasetta all'attacco, mostre illegittime, vive in Dici, ostacola. Il mattino, Berlino, il dramma di Fabrizia, trentenne di Sulmona tra le 12 vittime, l'Isis rivendica l'attentato al mercatino rilasciato. Il pakistano sospesato di essere autista killer. Merkel sotto accusa per gli immigrati, l'accoglienza resta. Sfogliamo ancora la stampa, caccia al killer in tutta Europa, italiana dispersa. Il padre, non mi illudo, Milano, prepara barriere anti-tier per le feste. L'Isis rivendica la strage al mercatino di Natale. Rilasciato l'uomo fermato, la polizia, il colpevole, è in fuga. E poi il personaggio, il suo sogno, un mondo senza confini. Fabrizia, trentuno anni, aveva trovato lavoro in Germania dopo l'Erasmus nel Capitale. Avanti con il fatto quotidiano che dedica l'apertura alla politica. Tre uomini imbarazzano il PD. Poletti, Sala, il padre di Renzi, il ministro del lavoro, il sindaco di Milano e il patriarca del Giglio Magico. E poi ancora, sotto il titolo d'apertura, Di Maio, attenti al Trimarra, si infiltreranno tra i 5 Stelle. Questo appunto nell'intervista al vicepresidente dei 5 Stelle alla Camera. Sotto la testata, Flop Germania, arrestato e liberato l'uomo sbagliato. L'Isis rivendica l'eccidio al mercato, resta ignoto l'attentatore e poi poche speranze. Chi è Fabrizia, Erasmus, pace e ultimi regali. Avanti con il giornale, la strage di Natale. La Merkel sbaglia terrorista, il pakistano fermato non c'entra nulla e caccia l'uomo, ma anche la insiste, coi rifugiati. Allerta massima pure da noi, trincee contro i tear killer. A Berlino altro sangue italiano, non si trova più una ragazza. E poi ancora la gogna politicamente corretta, ha vietato cantare per il diavolo Trump. Bocelli costretto a cancellare lo show. Avanti con il tempo, la resa dei conti, bancarotta a Roma, i revisioni bocciano il bilancio, i conti non tornano. Figuraccia epocale. Nuova inchiesta, i PM ipotizzano il danno erariale sulle nomine volute dal sindaco Raggi. E poi l'ispettore Derrick è una pippa, sempre molto forti i titoli utilizzati dal tempo. Arrestato l'uomo sbagliato, libero il pakistano fermato per la strage tedesca e la Germania si chiude in casa per paura del terrorista scomparso nel nulla. Poi andiamo ancora un po' più rapidamente, acceleriamo il passo. Qui siamo con l'unità a Roma, è arrivato il conto, i revisori bocciano il bilancio, non era mai successo. Rischio commissariamento. E poi non ci cambieranno. Un titolo che è un po' una speranza, un incitamento dopo quanto accaduto a Berlino. Avanti con Libero. La migliore difesa è non averli qui. Allarme terroristi islamici. Una ragazza italiana tra le vittime in Germania. I tedeschi sbagliano ad arrestare l'assassino. Però la Merkel annuncia che continuerà ad accogliere i musulmani. Allerta nuovi attentati. E poi ancora, ma che ministri abbiamo? Il riferimento ai ministri Poletti e alla neoministra Fedeli. Il manifesto. I falchi di Berlino. 12 morti e 48 feriti. Lo Stato islamico rivendica l'attentato. È una vendetta per gli attacchi in Siria. Merkel non cede alla destra. La linea sui profughi per ora non cambia. Poi sangue italiano anche a Berlino. Scrive la gazzetta del Mezzogiorno. Berlino i misteri del killer in fuga. Il titolo del gazzettino. Poi il secolo XIX. Berlino killer in fuga. L'avvenire. Germania ferita ma non ci chiuderemo. Infine la verità. Avanti o profughi alla Jihad. Le stragi non fermano i progressisti. Finiamo qui con la parentesi dedicata alla rassegna delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ora riprendiamo. Vediamo in che modo i quotidiani locali parlano della strage di Berlino. con particolare riferimento chiaramente alla sfortunata Fabrizia Di Lorenzo. Partiamo dal messaggero Abruzzo. Poi vedremo anche le pagine dedicate a questo tragico evento dal centro. Ecco qui Fabrizia sparita nell'orrore di Berlino. Di Lorenzo 31 anni da Sulmona alla capitale tedesca per lavoro. lunedì sera faceva shopping ai mercatini di Brightsteer Platz. Il cellulare trovato sul luogo dell'attentato. Un corpo all'obitorio che coincide con la descrizione dei parenti. Manca solo il DNA. E poi ci sono le parole anche del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che dice vogliamo sperare. Poi ancora la ragazza aveva appena telefonato alla mamma. Domani prendo il volo per l'Italia. Poi il silenzio. E poi ancora Federica. L'inferno dopo i regali. Miriana salvata dalla febbre. Sono alcune delle testimonianze raccolte dai colleghi del messaggero su chi era nei pressi della strage nella capitale tedesca. appunto i racconti di tanti abruzzesi che si trovavano nella zona in cui è entrato in azione il camion Kamikaze. Vediamo ora il centro, come tratta l'argomento, in particolare a pagina 2 e pagina 3 dell'edizione odierna. Anche in questo caso ci sono le testimonianze, tra le altre cose, di persone che si trovavano, della nostra regione, che si trovavano nei pressi del luogo dell'attentato. Ecco qui, abruzzo nel dramma. Sulmonese dispersa nella strage di Berlino. Dall'Erasmus alla laurea. Fabrizia Di Lorenzo lavorava nella capitale tedesca, una cittadina del mondo, amante della vita. Il vescovo Spina dice una martire. Messaggio anche del presidente Mattarella che ha espresso appreensione per la giovane. Familiari in Germania per il riconoscimento. Poi la testimonianza del papà. Abbiamo capito che è finita, ma il sindaco Casini non perde la speranza. Attendiamo notizie ufficiali dalla Farnesina. Europa sotto attacco. L'Isis rivendica la strage. Caccia aperta ai cani sciolti. E poi ancora quel tir nero sbucato da nulla. Poi la strage. La testimonianza della chietina del grosso. Ero a pochi metri dallo schianto. Il montoniese Di Pietro. Ora c'è paura. La rosetana Collevecchio che rabbia. Ecco qui una delle testimoni. L'avvocatessa di Chieti, come leggiamo dalla didascalia Valentina del grosso. che si trovava nei pressi proprio dello schianto. E poi ancora il pericolo camion. Adesso il Viminale pensa alle barriere. Vertici d'urgenza convocato dal ministro Minniti. Possibilità di vietare eventi pubblici. Paura nelle capitali. Lasciamo questa dolorosa parentesi. Andiamo avanti. Lo facciamo con la cronaca della regione Abruzzo. A pagina 12 e 13 del centro. Conti 2017 ai raggi X. 6,2 miliardi di euro. Ecco il bilancio della regione. Spessa sanitaria praticamente sugli stessi livelli. dello scorso anno. Il documento è approdato per la prima volta in commissione. Con la relazione dell'assessore Paolucci. Il Consiglio si appresta a discuterlo da martedì prossimo. Aumentare le risorse per il lavoro. La nuova divisione in macro aree dovrebbe blindare i capitoli di spesa. Ed evitare così il tradizionale assalto alla diligenza di fine anno. E poi ancora piano rifiuti. L'inceneritore non c'è. Via libera definitivo dalla giunta. Obiettivo 70% della differenziata. E poi ancora l'opposizione affila le armi. Il Movimento 5 Stelle è un errore. I tagli all'arta di Dalmazio e Forza Italia si devono abbassare le tasse. E poi ancora firma Regione Anas. Fondo Valle Sangro completata in sei anni. Avanti ancora. E siamo alla cronaca di Pescara. Cittadini senza paura per difendere le colleghe. Riaffronterei quel bandito. Il direttore del Todi si rapinatore e mi minacciava col coltello. Dai avvicinati. E poi queste vignette ripercorrono un po' i momenti di questa colluttazione. E qui la foto del Todis dove è avvenuta. Mi è piombato in auto urlando di partire. Sembrava un film. La Babysitter sequestrata dal Morvivente. In questa intervista c'è anche la sua testimonianza. Ancora la cronaca. La stazione le vietano di fumare. botte, sputi e insulti a due agenti. Arrestata. Una donna aggredisce i poliziotti con una stampella. Finisce in cella. Ma il giudice le restituisce subito la libertà. Avanti ancora. Denuncia via WhatsApp. Invia la polizia la foto del suo stalker. La donna chiede aiuto dopo l'ennesima molestia. E alla stazione sta per partire. Gli agenti lo arrestano poco dopo. E poi ancora porto sì alla barriera e al taglio della diga. Il comitato via approva i due progetti. Il Movimento 5 Stelle accusa non si può andare per pezzi e ripetere gravi errori. La relazione della Corte dei Conti. Comune. Buco ripianato ma investimenti ridotti. Diversi punti critici nel piano antidissesto. Secondo la magistratura contabile da migliorare la capacità di incasso, smaltimento e pagamento dei residui. Poi c'è l'intervista al dirigente Guido Dezio. Debiti saldati senza tagli dolorosi. Dezio spiega i primi risultati della procedura di riequilibrio finanziario del comune. Ancora a Pescara da Vinci a Piazza dei Grue. Ipotesi trasloco a gennaio. I 230 studenti sono ora ospitati al Classico. Disponibili 80 mila euro per i lavori. Ma prima occorre lo spostamento al pian terreno del centro sociale per anziani. Avanti ancora la rinascita delle periferie. La faccia bella di Rancitelli negli scatti di chi ci vive. Non solo droghe ma la vita. La Caritas che da sei mesi si occupa dei due parchi. Ha allestito laboratori per bambini. E una mostra fotografica in cerca di sponsor. Avanti ancora. Siamo a Montesilvano. La cronaca di Montesilvano. Night a luci rosse. Otto anni a Mirabiglio. Tutto questo a epilogo dell'operazione Lucinio. Lo sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione. Condannato il titolare di diversi locali notturni. La maxi operazione scattata nel 2004 ha portato sul banco degli imputati. Oltre 30 persone coinvolte a vario titolo nel giro delle ragazze dell'Est portate in Italia per fare le ballerine. Poi ancora barista colpito in testa con la Tenaglia. Alite in un locale di via Verrotti elettricista chiedeva il pagamento delle luminarie. Proseguiamo con le pagine dell'area metropolitana. Vigili urbani. Turni lunghi per le feste contro i furti. Francavilla. Il comando della polizia municipale ha predisposto servizi di pattugliamento interforze fino a mezzanotte. Anche nelle contrade. Sempre in provincia di Pescara. Ciaspolate sulla neve. Ballo della pupa. Ebbene sarà Natale. A Caramanico entra nel vivo il programma delle feste. Quest'anno c'è anche la riproposizione di cantine d'inverno. Siamo nella pagina di Chieti. Paura a San Vito. Bimbo dimenticato sul pulmino per cinque ore. Il piccolo di quattro anni è rimasto sullo scuolabus chiuso nella rimessa degli autoveicoli e sotto shock. Indagine di carabinieri e vigili. Sempre a Chieti. Ladri nella notte tentano la spaccata a Ikea. L'auto resta incastrata nella vetrata. La banda fugge poco prima dell'arrivo dei carabinieri. Nella pagina dell'Aquila, in particolare siamo a Sulmona, si uccide per vergogna. Una città sotto shock. L'impiegato era coinvolto nell'inchiesta sull'assenteismo in comune. La polizia cerca di ricostruire le ultime ore di vita. Si indaga su alcune telefonate ricevute in serata dall'uomo. Non ha lasciato alcun biglietto in casa. Al sessantenne la Corte dei Conti ha contestato diversi favori fatti alla capo ufficio. Secondo l'accusa, per nove volte Paolini aveva timbrato il cartellino al suo posto. Poi in basso la finanza chiude l'Accord Fenix, blitz delle fiamme gialle. L'inchiesta riguarda gli impianti di lavorazione dei rifiuti elettronici. Ora nella pagina di Terra con cui andiamo a chiudere la rassegna di cronaca del centro. E' anche la prima parte della nostra rassegna stampa. Gran Sasso, i solventi nella sorgente. Nasce un organo di controllo dell'acqua. Coinvolgerà tutti i soggetti interessati. Intanto la ASL relaziona sulle attività svolte dopo l'incidente del 30 agosto. Il Dipartimento di Prevenzione ribadisce nessun rischio per la salute pubblica. E dice di aver chiesto il 10 ottobre all'Istituto Superiore di Sanità un parere mai arrivato. In taglio medio Robin Hood, l'Associazione Difesa dei Consumatori Terramana, faremo un esposto in procura. L'associazione pretende trasparenza e chiede che le spese del potabilizzatore ricadano sull'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Allora, noi andiamo a vederci il servizio confezionato ieri dalla nostra redazione proprio relativo alla denuncia dell'Associazione Robin Hood. Poi daremo lo spazio alle previsioni meteo e quindi alla pubblicità. Poi torneremo per la seconda parte di Mattino 6. A tra poco. L'Associazione Consumatori Robin Hood di Teramo torna prepotentemente sulla sicurezza dell'acqua distribuita nel territorio terramano. Dito puntato contro i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso che già nel 2003 provocarono uno sversamento di sostanze tossiche nel pozzetto di drenaggio, veleni che poi finirono nella rete dell'acqua potabile dove il ruzzo captava. Nonostante la messa in sicurezza di allora, il fenomeno si è ripetuto dopo 13 anni e questo crea preoccupazione e fa porre qualche domanda. La vostra associazione non è tanto sicura, non è più sicura dell'acqua che si beve a Teramo per lo sversamento. È una storia che comincia un po' da lontano dal 2003. Sì, no, siamo sicuri perché pensiamo che la ruzzo ci garantisca questo e quindi siamo tranquilli che la ruzzo garantisca acqua sicura. Non siamo sicuri dei laboratori e del sistema dei laboratori che garantisce il sistema dell'acquedotto del ruzzo. Sì, abbiamo purtroppo un precedente, su questo precedente sono stati spesi i denari pubblici per mettere in sicurezza, ci avevano rassicurato, però punto e a capo. Ci ritroviamo oggi con la stessa realtà, quindi vorremmo avere assicurazioni maggiori per quanto riguarda il futuro. Cosa chiedete? In buona sostanza noi chiediamo intanto che l'Istituto Nazionale di Fisico Nucleare si faccia carico degli eventuali costi superiori per quanto riguarda gli utenti e soprattutto diventi un po' più trasparenti per quanto riguarda la messa in sicurezza e a tal proposito noi chiederemo a magistratura di indagare. La ruzzo ha infatti spiegato che il proprio sistema di controllo bloccò immediatamente a settembre scorso l'immissione dell'acqua contaminata nel circuito dell'acquedotto e che dopo quell'episodio nessun problema è stato successivamente riscontrato. Seconda parte di Mattino 6, di nuovo buongiorno dalla nostra redazione, riprendiamo la rassegna stampa e riprendiamo dal messaggero. Siamo sulle pagine della cronaca di Pescara. Nuovo porto, avanti tutta con i lavori, apertura di 70 metri sulla diga foranea, deviazione delle fiume e costruzione di una barriera soffolta di protezione a nord. Il comitato via della regione ha stabilito che le opere non verranno sottoposte alla verifica di assoggettabilità. Gli ambientalisti temono gravi rischi in caso di piena, faremo un esposto all'autorità anticorruzione. Il forum H2O e Pettinari dei Cinque Stelle temono il ripetersi di gravi errori nel passato. Poi ancora pista ciclabile zona verde in via Doria con la doppia corsia proposta all'ANAS dall'assessore Civitarese è stata valorizzata. Un'idea dell'architetto Tommaso Di Biase. Proseguiamo sempre a Pescara. I negozianti al sindaco su Coso Vittorio, luminarie di serie B. Abbiamo pagato 80 euro per quattro misere palle. Il comitato di via scrive ad Alessandrini si dimetta sotto accusa. Finisce anche Confcommercio minacciato un'azione legale per spese e danni. Poi un fatto che purtroppo si ripete sovente, auto contromano sull'asse attrezzato, incidente rischiato. L'altra sera lo svincolo per Piazza Italia d'Incecco di Forza Italia, dice, urge nuova segnaletica. Ecco qui la tragedia stradale che è stata evitata per un soffio proprio all'altezza dello svincolo per Piazza Italia dell'asse attrezzato. Per seguita la ex, lei lo fa arrestare. Si sono conosciuti su una chat, ma presto lei si è ritrovata in un incubo tra pedinamenti, incursioni e aggressioni. Una foto inviata dalla donna su WhatsApp ha consentito agli agenti della squadra mobile di individuarlo e bloccarlo. Finisce nei guai trentenne Foggiano, vani tentativi dei familiari per fermarlo. E poi ancora premio Olivetti a Confindustria per la fusione Chieti-Pescara. La menzione speciale, quale modello di aggregazione manageriale e ottimizzazione delle risorse per il direttore di Giosafatte. E la dimostrazione è che stiamo battendo la strada giusta per la crescita. Avanti ancora con le pagine dell'Aqui. La gestione illecita dei rifiuti, sigigli al sito Accord Fenix, controlli della Guardia di Finanza, avvisi di garanzia ai vertici dell'azienda. Contestate irregolarità ambientali e la mancanza di autorizzazioni. E poi ancora impianti sportivi, lavori per 22 milioni. All'Aquila, cantieri completati già nel 2017. Ci sono lo stadio, il palasport dei giapponesi e piazza d'armi. Avanti ancora, sempre all'Aquila. L'argomento in questa cosa è la sanità. Precari Asl proroga fino a marzo. Pietrucci del PD, altri tre mesi, poi una razionalizzazione. Tirano un sospiro di sollievo, decine di amministrativi. Riesplode il caso Galzio, è giallo sulle nuove dimissioni. Tordera, se arriveranno le respingerò. È una eccellenza. Qui nella foto vediamo il neurochirurgo Renato Galzio su neurochirurgia e duello totale con la Marsica. Liris, siamo sotto attacco. Cialente, è durissimo. E andiamo proprio in Marsica, anzi, a dire la verità, siamo a Sulmona. Assenteismo in comune, impiegato suicida. Il dipendente comunale, 60 anni, accusato dalla Corte dei Conti per aver timbrato per nove volte il cartellino del suo superiore. Aveva già annunciato alla compagna, voglio farla finita. Il corpo trovato dal figliastro si era impiccato nel garage. E poi ancora a Castel di Sangro, bimba grassottella, denunciati i bulli. La querella della madre alla procura di Sulmona, informato il PM per i minori. Siamo nelle pagine di Chieti. La gang del Bancomat assalta l'Ikea. L'auto resta incastrata. In quattro devastano nella notte la vetrata del megastore, ma rimangono a mani vuote. Il tempestivo intervento dei carabinieri mette in fuga i banditi, i veicoli lasciati sul posto. Il Fiat Strada bloccato nella porta, poi la banda ruba un furgone in una azienda. E poi ancora di spalla, leggiamo al Teatro Marrucino Gran Galà di Natale. Venerdì torna anche l'appuntamento al Supercinema con il Teatro Winter Festival. Andiamo in Frentagna, a Lanciano. Due milioni per il quartiere Santarita. In partenza il maxiprogetto di riqualificazione urbana con nuovi appartamenti a canone agevolato. Ecco tutti i costi. Appalto diviso in tre lotti per velocizzare l'importante intervento. La soddisfazione del sindaco. Andiamo incontro ai cittadini. Poi ancora, Fondo Valle Sangro, firmata la Convenzione, la Regione trasferirà all'ANAS 78 milioni di euro per i lavori sul tratto. Vediamo il servizio della nostra redazione. Con la firma della Convenzione tra Regione Abruzzo ed ANAS è stato posto l'ultimo tassello per i lavori di completamento della strada statale 652 della Fondo Valle Sangro, nel tratto compreso fra la stazione di Gamberale e l'inizio della variante di quadri. L'accordo prevede il cofinanziamento dell'opera da parte della Regione con un trasferimento in favore di ANAS di 78 milioni di euro, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, patti per il Sud. Nel complesso i lavori ammontano a 190 milioni di euro per un tratto di 5,3 chilometri, prevalentemente in sponda sinistra del fiume Sangro, con 5 viadotti lunghi complessivamente 1,2 chilometri e una galleria di 2,5 chilometri. Ieri il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS a livello nazionale ha deliberato il progetto esecutivo cantierabile e il bando di gara. Nei prossimi giorni, e che per me significa nelle prossime ore, troverà pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questa è un'opera attesa da 40 anni che consentirà alla Fondo Valle Sangro di essere completata e realizzare un'autostrada dei due mari senza pedaggio. Io conto nei prossimi giorni di fare uscire il bando di gara internazionale sulla Gazzetta Ufficiale. Ci vorranno qualcosa come 50 giorni per la definizione di coloro i quali sono ammissibili e valutabili circa l'offerta da preferire. E poi ci sarà la firma del contratto dopo aver fatto la verifica del possesso dei requisiti individuali. Una parte del ribasso faremo in modo che venga utilizzata per il viadotto Barche. Anche questa, una parte di questa infrastruttura nata male, finita peggio, che sta lì sospesa a mezz'aria. Intanto la faremo colorare per fare in modo che non accada mai più che un'opera progettata male si concluda in quei termini. E poi la faremo sistemare trovando un tracciato idoneo, questo breve tratto che ha ormai 30 anni di vita come sconciatura progettuale. Andiamo a concludere la rassegna della cronaca sul messaggero Abruzzo con le pagine di Teramo e Provincia. Allarme acqua, rassicurazioni dopo la riunione in regione. Nessun problema per le tracce risolvente, quantità ridicola anche per la sua volatilità. Ma l'associazione Robin Hood va in procura. La situazione è grave di Ferdinando, presidente dell'associazione, annuncia. Non staremo a guardare, c'è un problema sicurezza. E poi a Teramo, progetto della funivia, il consiglio dice no. I 10 milioni previsti per l'opera, proposti per la realizzazione di un nuovo polo scolastico. E in basso, a proposito di scuola, riaperta la Noe Lucidi, tra feste e proteste. Sulla costa Giulianova contestati i lavori in via Nazario Sauro. Il progetto approda stasera in consiglio, ma sarebbe privo di alcuni servizi primari come le acque di canalizzazione. Altra polemica è quella legata alle manifestazioni natalizie. I soldi del ballo in piazza servono per pagare un vecchio debito. Annullato l'evento, che è stato ignorato perfino nei manifesti. E poi ancora ad Albadriatica, il sindaco Piccioni, il 2017 sarà l'anno delle opere pubbliche. E a Notaresco, dal comune un aiuto per le scuole, l'istituto comprensivo riceverà il contributo di oltre 6 mila euro. Lasciamo il messaggero e approdiamo ora alla città il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a vedere le pagine che sono inerenti, in particolare il comune Aprutino e poi anche la provincia di Teramo. Ecco qui, passa l'asse Brucchi-Gatti, bocciata la funivia, accolta la mozione contraria al progetto del rettore, e il PD dichiarata guerra alla regione e all'Ateneo. Avanti ancora, inaugurato il Museo del Gatto a Casa Urbani. Esposti 600 pezzi della collezione donata all'Izietà S, sarà aperto anche a Natale e Capodanno. Allora abbiamo realizzato un servizio proprio su questa inaugurazione. In tutto il mondo ne esistono solo due, uno ad Amsterdam ed uno in Malesia. Da oggi il terzo è a Teramo e la sua collezione compete egregiamente con le altre. È il Museo del Gatto, allestito dal comune a Casa Urbani nel centro storico cittadino e che offre ai visitatori una preziosa raccolta unica in Italia appartenuta a professor Paolo Gambacurta. Cosa c'è di artistico quando si parla di gatto o di questo gatto? Di artistico c'è molto e c'è poco, ma c'è la possibilità di far apprendere e di imparare divertendosi. Bisogna essere leggeri in un momento di grande peso, anni di piombo che sono tornati, bisogna essere molto leggeri. La raccolta di oltre 400 pezzi preziosi e curiosi che raccontano del gatto è stata donata dalle sorelle Rita e Bianca Maria Gambacurta all'Istituto Zoo Profilattico di Teramo in memoria del fratello Paolo, viaggiatore stancabile e collezionista di grande livello. Quanto è importante il gatto per esempio in una terapia con i bambini, questa cat therapy? In generale il ruolo degli animali per quanto riguarda il benessere delle persone, sia fisico che psichico, è ormai riconosciuto. Il gatto si rientra benissimo in questa categoria di animali. Adesso la pet therapy è normata, quindi ci sono delle leggi nazionali e anche regionali che normano la pet therapy e ci sono anche una vastità di studi scientifici che ci permettono di dire che il gatto e in generale gli animali hanno un ruolo importantissimo nella salute psicofisica umana. Tra gli oggetti più preziosi esposti nel museo del gatto di Casa Urbani a Teramo ci sono dipinti di fine ottocento, incisioni, soprammobili, ceramiche. Rarissimo è un gatto cinese che i fumatori di oppio usavano come poggiatesta. Ma chi è il gatto per lei? Il mio miglior amico! Proseguiamo sulla città, tranne il Rozi, scuole superiori a bocca asciutta. Nuovi indirizzi di studio, l'Agrario ottiene il sesto anno bocciate, invece tutte le altre richieste teramane. Brucchi Natale ha sorpresa alla Noe Lucidi, il sindaco si maschera per distribuire quaderni e caramelle agli alunni nel giorno del rientro in classe. L'imprevisto a fare le pulce Babbo Brucchi sullo stato della scuola e l'ex consigliere di centrodestra Ciarrocchi. E poi capitolo terremoto, verifiche verso il rallentamento per le festività, altri dieci sgomberi. Proseguiamo e siamo alle notizie della provincia di Teramo. Colledara, 13 milioni per la ricostruzione, firmato in provincia l'accordo di programma per i danni causati dal terremoto di otto anni fa. Con Bellante salgono a otto i comuni che si servono della provincia per aspettare le loro gare attraverso la stazione unica appaltante della provincia. Viviani rischia di spaccare il PD al Bense, va avanti il dialogo con Rasicci mentre latitano i nuovi ingressi in segreteria. Invece di pensare all'opposizione il segretario è già impegnato nella campagna elettorale. Sono alcune delle critiche mosse. Con quest'altra notizia, Giulianova, via libera alla rateizzazione delle bollette, niente stangata da parte del gruppo ERA per la fatturazione del gas. Conclusa la fase di integrazione di Giulia Servizi all'interno della società emiliana. E poi ancora i falignami del futuro studieranno a Pineto, presentato il corso di tecnologie del legno dell'Istituto Zoli in collaborazione con l'Aran World. Proseguiamo ancora con la cultura, Rozi, la cattedrale dell'identità, recuperata la relazione del 1893 sul restauro del campanile del Duomo di Campli. Andiamo ora con lo sport, gol e salvezza. Il Teramo riparte dal Lumezzane, il centrocampista Ilari, meritiamo i punti che abbiamo. Zauli, la persona giusta per uscire da questa situazione. Ok, Petrella e Fratangelo, Jefferson ha lavorato ancora a parte e sta cercando di recuperare dall'infortunio. Ieri stop per il campiano biancorosso Speranza, febbre per il terzino Dorazio, per lui una contusione. Prima di proseguire con le pagine dei quotidiani locali dedicate allo sport, direi che possiamo andare a vedere la prima pagina della gazzetta dello sport, con i titoli principali sui fatti nazionali, dopodiché andremo sul centro e messaggero. Chiaramente non mancano riferimenti al contrattempo avuto ieri dal Milan, il cui charter destinazione Doha per la disputa della Supercoppa ha avuto un imprevisto e non è decollato. Decollo rinviato a questo pomeriggio. E allora questo è il titolo della gazzetta. Suso decolla ma il Milan resta a terra. Il charter rossonero fermato da un guasto, partenza rinviata oggi. Un altro ritardo e noi non giochiamo, un danno gravissimo. Poi c'è l'intervista al fantasista spagnolo, protagonista sorpresa d'inizio stagione. Ho un piano, battere i bianconeri, batto i bianconeri, rinnovo e conquisto la nazionale. E poi ancora la provocazione Berlusconi per fermarli, vanno cambiati gli arbitri. Il presidente Alquirinale graffia la Juve e poi ricorda che quest'anno ha investito 150 milioni nella squadra. La certezza, la Juve già a Doha, punta sul ritorno di Superdibala. E poi ancora, sotto la testata, Inter dà scatto, Pioli e Lavazio, quanti ex, Icardi immobile e i gol. Il tecnico Nerazzurro affronta il club che lo ha esonerato lo scorso campionato. Sfida tra i due colonieri a lungo a digiuno. C'è un'altra possibilità per Banega. Poi un risultato che è importante per il Pescara, che però è in crisi di suo e deve uscire di suo da questo momento di impasse. Però, intanto, l'Empoli ha perso ieri in uno degli anticipi di questa giornata sul campo dell'Atalanta. Che si rimonta l'Empoli, la Baby Atalanta riparte. Vedete il punteggio 2-1, una vittoria in rimonta per la squadra di Gasperini. E chissà, un favore in diretto al Pescara di Oddo, che domani sera giocherà a Palermo. E a proposito, ripartiamo dalle pagine del centro, proprio in tema di Pescara. Ed ecco qui, tra campo e mercato, Pescara stringe per Budimir la punta croata dalla Samp. Dovrebbe essere il primo rinforzo di gennaio. La squadra è in ritiro a Roma, in vista della sfida di domani sera a Palermo. L'Atalanta offre Carmona, oltre a Stendardo. E poi ancora parla Carrozzieri, un ex del Palermo, che conosce molto bene anche la realtà abruzzese, quindi anche di Pescara. Con quattro rinforzi, Oddo può ancora ottenere la salvezza. L'ex difensore del Palermo e amico del tecnico pescarese, Rosanero Galvanizzati. Ci sarà una bolgia al Barbera. E poi ancora la lezione di Estiarte. Dunque c'è un break con la pallanuoto, la cultura della sconfitta. Ecco cosa manca all'Italia. Qui il calcio è secondo solo al Brasile, ma ci sono troppe esagerazioni. Il Maradona della pallanuoto oggi è dirigente del Manchester City, guidato dall'amico Guardiola. Ieri Elenaia ha parlato ai ragazzi raccontando aneddoti e principi della sua carriera. Andiamo avanti e torniamo al calcio. Teramo, San Nicolò, a giugno i primi passi verso la sinergia. Il DG Scacchioli conferma l'accordo fra i club si farà. Ilari è il momento di cambiare passo al Bonolis. E poi in basso per il basket, Fallucca, Proger, voglio portarti alla salvezza. La nuova guardia dei Biancorossi si è unita alla squadra. Roseto ha Piacenza per puntare alle Final Eight. Fallucca tesserato per sopperire all'infortunio di Piccoli. Ancora in basso, Di Berardino nel gota della divisione calcio a 5. Il dirigente di Colonela nel Consiglio federale. Alessandro Di Berardino. E poi ancora, Mastro di casa alla Grande Corsa Bianca. L'atleta di San Valentino, specialista nel trail estremo. Andiamo ora a vedere il Messaggero. Le pagine dello sport del Messaggero. Prima di avviarci alla conclusione, il Pescara vira su Carmona. L'Atalantino potrebbe arrivare in prestito, vista la difficoltà di ottenere grassi. L'alternativa sarebbe l'esperto Migliaccio. In attacco, la Juve offre Ganza, attualmente al Verona. Dall'Uruguay arrivano i giovanissimi, Rodriguez e Neira. E poi a Palermo, in molti, si giocano il futuro. Prezzi popolari per riempire il Barbera e creare ancora di più quell'effetto Bolgia, di cui parlavo in precedenza nell'intervista anche Morris Carrozzieri. Per la Lega Pro, Ilari Zauli. L'ideale per risollevare il Teramo. Spesso in casa vogliamo strafare, ma contro il Lumezzane avremo l'occasione per riscattarci. Allora andiamo ad ascoltare le parole pronunciate ieri in conferenza stampa del centrocampista del Teramo, Carlo Ilari. Se abbiamo 18 punti vuol dire che sono giusti. Io non credo al meritavamo di più, meritavamo di meno. Abbiamo incontrato tante difficoltà e si stanno palesando. Dobbiamo cercare di fare di più e di portare più punti a casa. Perché è chiaro che anche noi ci aspettiamo di più da noi ed è giusto che lo faccia anche il pubblico e tutti quanti. Dobbiamo assolutamente dare una sterzata a questo campionato e cercare di cambiarlo in modo positivo. Io dico che bisogna ragionare gara per gara perché abbiamo visto bene che ci sono momenti positivi e negativi e da un momento all'altro può cambiare tutto. Siamo tutte lì. Anche la stessa Feral Pissalò che adesso ha pareggiato con noi se avesse perso si sarebbe, non dico ritrovata, ancora nella zona calda, però sarebbe stata lì lì, insomma, con un paio di vittorie, un paio di sconfitte, tutto può cambiare. Io penso che battere il Lumezzane significherebbe riniziare un girone di ritorno dando una sterzata nuova e un cambiamento che ci deve essere a prescindere dalla gara con il Lumezzane. Dobbiamo assolutamente fare di più e migliorare sia le prestazioni che i risultati e lavoriamo tutti i giorni per farlo. Sicuramente dopo un girone, e avendo visto tutte le squadre posso dire che sì, quella è stata una brutta partita, però è stata una partita in cui abbiamo sofferto molto le loro ripartenze, insomma, e da questo dobbiamo appunto aver imparato qualcosa e aver capito che tipo di squadra andremo ad affrontare. Una squadra che si chiude e che nelle ripartenze cerca di farti male. hanno una grande difesa e dobbiamo appunto essere attenti nel non sbilanciarci troppo e comunque non subire tante ripartenze perché è la loro forza. Andiamo a chiudere con l'ultima pagina di sport del messaggero Abruzzo. Pineto per la salvezza e il mercato è decisivo. La squadra di Amaolo ha colmato alcune importanti ma anche le dirette concorrenti hanno migliorato la rosa. Parliamo di calcio di Serie D per Re Canatese, Campobasso e Castelfidardo. Colpi importanti. Una rivoluzione per il San Marino guidato dall'ex tecnico di Vastese, Chiti e Giulianova, Pino Di Meo. Sempre per la Serie D, Brenci carica l'Aquila, prendiamoci il primato. E sempre per il calcio di Serie D ma con altri risvolti, Caos, Chiti, Giacomini non si presenta dal curatore fallimentare. Ieri era prevista questa audizione ma il presidente del Chiti non si è presentato, ne ha fatto sapere nulla. per il basket, Fulz Roseto, obiettivo sbancare Piacenza. Fallucca si presenta, Proger fidati di me, sono un giocatore di sistema, posso essere impiegato da due e da tre. E poi in basso, sempre per il basket, dopo sei vittorie consecutive, l'Amatori torna a sognare. Noi ci fermiamo qui per questa edizione odierna di Mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari alle ore 14, alle ore 19, alle ore 23. Ringrazio in regia Claudio Di Giacomo e ringrazio voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata. Io vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.